C'era un gruppo di 40 persone con le bandiere del No Green Pass che si sono inserite in mezzo allo spezzone della CGL. Sono intervenuto io ma c'era con me anche Luciano Bordin della CISL e abbiamo proposto di accodarsi al corte. Sono legittime tutte le critiche per carità, certo che i toni e le offese non sono gradite. Per noi risultava davvero strumentale per chi pure nel loro volantino accusavano CGL e CISL e Will di aver tradito i lavoratori, credo sia legittimo pensare che quella fosse una provocazione. Provocazione che poi si è dimostrata, ci sono stati degli scontri con la polizia in campo a San Giacomo e poi c'è stato un tentativo e un'aggressione rispetto a pretendere di parlare sul palco, che per noi non è mai stato un problema, ma come tutte le forze che partecipano, associazioni, partiti al corte del primo maggio, dicono che sono presenti perché c'è anche una questione che riguarda a come si manifesta. C'è un corteo, bisogna garantire la sicurezza delle persone che partecipano al corteo da un punto di vista del traffico banalmente. Purtroppo queste 40 persone io penso che con quei modi abbiano rovinato quella che poteva essere una festa. Farete partire denunce anche voi? No, a me dispiace solo che non ci sia la capacità di un confronto. Capisco anche le frustrazioni e la rabbia, ma per noi la ricerca del dialogo è sempre la fase più importante. Io non credo assolutamente che abbiamo da denunciare degli atteggiamenti che parlano da soli.